Salve, mi chiamo Alessandro Bolognini, sono professore incaricato presso l'Università degli Studi e Campus e sono autore del libro La macchina crea invenzioni, creatività e metodologia applicata. Il volume si divide in tre parti, nella prima si analizza il costrutto della creatività, nella seconda vengono descritte le mie peculiarità artistiche in riferimento sia all'ambito della pittura sia quello della scultura. Nella terza presento un originale contributo metodologico che si concretizza in quella che definisco la macchina crea invenzioni, che è una struttura operativa complessa costituita dalla macchina creafrasi, il cui funzionamento si basa sul rapporto tra la dimensione linguistica ed il calcolo combinatorio, dal comparamemorizzatore, dai valutatori, dai robot macchinari e dalle IA pensatrici. Nel volume vengono presentate anche altre macchine, come ad esempio la macchina crea neologismi, la macchina crea immagini e la macchina crea musica. Auguro a tutti una buona lettura.